benvenuti oggi mi trovo a torino è precisamente in via don bosco al numero 84 se siete alla ricerca di un appartamento già ristrutturato in uno stabile con ascensore date un'occhiata al video l'appartamento è composto da ingresso living in una grande zona giorno divisa tra salotto e cucina due camera da letto bagno ripostiglio e lavanderia l'ampia zona giorno è una delle caratteristiche principali di questa casa per il resto non mi resta che contattarmi